amici di gun fashion 95 buongiorno e ben ritrovati in un nostro nuovo video come potete vedere adesso la vedremo nel dettaglio, ritorniamo a parlare di pistole Glock, proseguiamo la nostra serie di video analizzando vari modelli delle pistole Glock dopo aver visto la mia 19 di terza generazione, una 26 di terza generazione e una 17 di terza generazione sempre quest'oggi andiamo a vedere nel dettaglio sempre un modello 17 però della serie C, ossia il modello a canna compensata sempre di terza generazione, quindi non ci resta che avvicinare alla telecamera e andarla a vedere nel dettaglio ok, andiamo a vedere la nostra Glock 17C compensata da vicino, ovviamente l'arma è scarica, la camera di cartuccia è vuota il caricatore anche, quindi maneggiamo l'arma in tutta sicurezza, rifacciamo vedere la camera di scoppio mandiamo in chiusura il carrello e vi faccio vedere il profilo destro dell'arma abbiamo detto si tratta di una Glock sempre 17 di terza generazione, da che cosa non capiamo? innanzitutto il classico thumb rest, chiamato, sia sul lato destro che permette l'appoggio dell'indice sia sul lato sinistro per l'appoggio del pollice inoltre il grip è il classico della Glock di terza generazione e ci conferma la nostra teoria il modello C, abbiamo detto modello a canna compensata ve la giro ed eccola qui innanzitutto per quanto riguarda la storia del modello C, sappiamo che la serie C compensata è stata introdotta nel 1987 ed è disponibile in vari modelli fu introdotta per la prima volta nel modello 17 che abbiamo qui in esame e successivamente venne introdotta per i modelli 17, 19, 20, 21, 22, 23 e anche il 31 e il 32 quindi abbiamo una serie piuttosto completa per quanto riguarda i modelli compensati allora mandandola di nuovo in apertura andiamo a vedere che cosa di che cosa appunto tratta la nostra compensazione voi vedete che verso la fine della canna vicino alla parte terminale della volata ci sono queste due asole che sono a forma di V vedremo successivamente nello smontaggio vi farò vedere la forma però vi basti vedere la parte terminale queste asole in chiusura vanno in corrispondenza di questi altri due intagli di queste altre due asole nella parte terminale del carrello sono queste che fungono e applicano la compensazione nell'arma queste due asole nel carrello non fanno altro che espellere i gas in eccesso e aumentare la compensazione dell'arma stessa ora per quanto riguarda i vari marchi e punzoni ovviamente qui abbiamo i marchi di accettazioni la matricola classico marchio clock nulla da dire facciamo vedere anche le mire classiche mire mirino posteriore e anteriore con i riferimenti bianchi di tipo glock girandola a sinistra thumb rest nostro sgancio caricatore e la denominazione glock marchio 17 c compensata austria il numero del catalogo perché questa porta ancora il numero del catalogo e il calibro che è il 9x21 prima di vedere lo smontaggio il caricatore è quello classico da 17 colpi facciamo vedere quest'altro sono presenti salva percussori in questo non cartucce vere con il carichino andiamo pure a vedere l'illuminazione del carichino sul lato destro e lo metto in corrispondenza il calibro ovviamente come in tutte le glock 17 è il 9mm in Italia 9x21 vi faccio solamente vedere giusto per curiosità ma penso lo conosciate tutti arrivato a questo punto e prima di farvi vedere lo smontaggio di nuovo le asole del carrello in corrispondenza a quelle situate nella parte terminale della volata che adesso andiamo a vedere nello smontaggio dell'arma ovviamente abbiamo rifatto il nostro check di sicurezza abbattiamo il nostro percussore abbiamo il fusto classico glock nulla da dire al riguardo classico fusto di terza generazione lo mettiamo qui nostra molla di recupero completa terza generazione ed ecco qui il cuore della compensazione allora questa è la nostra canna abbiamo le asole spero riuscite a vederle bene e poi in corrispondenza di queste gli intagli le asole nel carrello secondo la casa glock questo sistema riduce il rinculo dell'arma tramite la compensazione appunto di un buon 25-30% nell'arma stessa ovviamente le lunghezze sono le classiche della glock 17 quindi abbiamo una lunghezza totale di 204 mm l'altezza di 138 mm lo spessore da 30 mm la canna che vi faccio rivedere da 114 mm e il peso con caricatore scarico da 17 inserito di 710 grammi come detto grazie a questo sistema in teoria dovremmo avere una riduzione del rinculo di un buon 25-30% io non ho avuto l'opportunità di provare il modello C e di confermare questa tesi molte persone si sono trovate molto soddisfatte a livello di rinculo di compensazione che viene ulteriormente ridotto a detta loro altri invece non hanno trovato particolari differenze di rinculo sparando con la glock 17 normale e anche con una 19 normale quindi personalmente non vi so dire se questo influisce sul rinculo dell'arma a livello di compensazione molti si sono trovati soddisfatti altri invece hanno opinioni diverse era solo per mostrarvi visto che avevamo visto la glock 17 di terza generazione senza la compensazione volevo mostrarvi anche il modello compensato che ha questa particolarità rimontiamo l'arma ok l'arma è pronta inseriamo il nostro caricatore ed è tutta qui molto molto bella già lo sapete avete sicuramente capito che io stimo molto la casa glock non c'è assolutamente da aggiungerlo bene ragazzi io spero che questa piccola e breve recensione come al solito vi sia piaciuta per qualsiasi altra cosa curiosità opinioni critiche scrivete nei commenti e fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video bene ciao 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 ciao